Una lavatrice, un materasso piegato, pneumatici, parti di una moto, indumenti, sacchetti, cartacce, cartoni, bottiglie di plastica e immondizio ovunque al lato della strada. Questo è lo scenario che si presenta al campo d'aviazione a Fano, strade isolate dove qualcuno ha ben pensato di venire a gettare i propri rifiuti. Una vera e propria discarica a cielo aperto segnalata da un nostro telespettatore che attraverso alcuni scatti fotografici ha voluto mostrare diversi punti della zona, come questo ad esempio, dove sono stati abbandonati altri due materassi. Episodi dunque di inciviltà e di degrado ambientale che potrebbero essere risolti con una semplice telefonata ad Aset SPA, chiamando al numero 0721 80 25 18 oppure visitando il sito internet asetservizi.it con la speranza che almeno in questo modo la città della fortuna possa essere più pulita.